Bitcoin si è infilato e si è bloccato in questa area di resistenza, un'area che ho fatto vedere anche ieri nella live, importantissima la live di ieri, quella sul che cosa succede se superiamo la TH sui 69 mila dollari, dove siamo diretti, qual è il target eccetera. Ma in questo video voglio mostrarvi quelli che sono due grafici che non c'entrano niente con i grafici classici che andiamo a vedere ma sono grafici di analisi fondamentale, sì perché andremo a analizzare in pratica quelli che sono le transazioni e gli inflow relative agli exchange e su questi dobbiamo fare un ragionamento perché al di là di quelle che sono le nostre opinioni, le mie le sapete già da un po' di tempo che vi ho più volte detto che in questa fase, non è galoppata dai retail ma solo dagli istituzionali, ci sono però dei grafici, degli indicatori, delle statistiche di natura fondamentale, quindi analisi fatte attraverso la blockchain che possono indicare effettivamente, darci una conferma di questo discorso ed è quello che faremo oggi, andremo a fare un'analisi su questi due grafici che confermano che cosa sta succedendo e perché, chi si sta muovendo e perché. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video ragazzi e questo è un video in cui io vi chiedo gentilmente e cortesemente di lasciarmi i vostri pollicioni, iscrivervi al canale perché come mi sentite non ho un filo di voce, ma in giornate del genere non potevo assolutamente lasciarvi così all'asciutto di queste analisi, anche perché le sto facendo anche per me, per avere le idee chiare anche in Academy eccetera, quindi ragazzi lo sforzo diciamo è enorme perché con questa voce non posso parlare più di tanto, quindi su quei pollici datevi un po' man forte. Allora più volte abbiamo detto in questi ultimi giorni, queste ultime settimane che in pratica la struttura attuale dei mercati cripto, questo pump improvviso è consistente, non è dovuto all'influsso dei retail e anche da questo punto di vista abbiamo mostrato anche diversi grafici come anche il grafico per esempio della Google Trend, il fatto che io stesso insomma ecco con un canale YouTube, insomma anche gli altri YouTuber in Italia sentiamo insomma ecco che questa pomo in realtà non c'è ragazzi perché facciamo confronti anche con quelli che sono i dati passati eccetera, non c'è e sembra che i retail siano appunto un po' distanti da questa fase, ma la conferma di questa che da un punto di vista personale diciamo è sicuramente un'opinione ma basata anche su dati di natura oggettiva come vi dicevo prima, però in questo caso sono andato alla ricerca di quello che possono essere dei grafici, delle indicazioni che possono indicarci in maniera fondamentale quello che sta succedendo e c'è una indicazione che è anche contraddittorio e che ci dà anche un'informazione importante perché ci spiega una cosa, al di là del dato ragazzi è sempre come viene analizzato il dato che è importante, è sempre l'analista che c'è dietro che deve essere bravo tra virgolette ad analizzare il dato perché un dato statistico, quel che sia, messo lì, campato in aria, a volte può significare tante cose, le statistiche mentono spesso e volentieri, quindi se noi non le sappiamo usare in maniera oggettiva ma le vogliamo tra virgolette travisare, manipolare a nostro favore, facile farlo con la statistica. Quello che importa quindi è sempre avere gli occhi ben aperti ragazzi quando facciamo queste analisi e quando le vedete anche in giro, è un po' il beneficio del dubbio e vi dico un po' il beneficio del dubbio, mettetelo anche in questa analisi che faremo oggi stesso perché alla fine è sempre una mia personale opinione e non è solo un dato oggettivo, ci sono dei dati oggettivi che vedremo però poi l'interpretazione è soggettiva, non dimenticatelo mai va bene e ovviamente non sono consigli finanziari. Allora andiamo a vedere il primo grafico che volevo mostrarvi oggi ragazzi ed è questo grafico qui, il grafico degli inflow medi degli ultimi, dell'ultimo anno sul mercato delle cripto. Che cosa sono gli inflow exchange? Cioè sono il, è la media, ecco qui viene anche spiegato in maniera, facciamo uno zoom così, leggiamo direttamente dal sito di CryptoQuant, questo qui è la media del totale delle cripto che vengono inserite, mandati sui exchange per ogni singola transazione. Un alto valore di questo indicatore è fortemente negativo perché indica che può avvenire una selling pressure molto pronunciata e in futuro i prezzi potrebbero crollare. Allora detto così in pratica noi abbiamo un grafico che è abbastanza evidente da un anno, sta in pratica salendo la linea blu che vedete e sono gli inflow e gli inflow sono realzisti, quindi è da un anno che arrivano e aumentano il numero delle cripto presenti negli exchange, questo tecnicamente è un segnale bearish, cioè un segnale di pericolo. Può significare sostanzialmente o che stanno arrivando delle cripto sugli exchange pronte per essere vendute, trasformate in stable coin, quindi selling pressure, oppure può significare che alcune di queste criptovalute vengono utilizzate per l'investimento in derivati e in questo caso si avrebbe un aumento della speculazione, ciò significa anche della volatilità di conseguenza per l'utilizzo dei derivati. Questo è il dato preso a sé stante e visto in un'ottica che non ha una finestra ampia, che non ha una logica ampia, che è visto in maniera singola, singolare, ed è scorelata rispetto a tutto quello che sta succedendo e che noi conosciamo sul mercato. Ma un po' il dubbio mi era venuto anche quando vedevo queste cose, e sono qualche settimana, mese, che le sto analizzando ragazzi, perché l'idea di fondo è che questo dato non si va ad agganciare con quello che sta succedendo nei mercati degli ETF con l'avvento degli ETF. Infatti gli ETF stanno accumulando e questo noi lo sappiamo perché possiamo andare a controllare quelli che sono gli AUM dei Bitcoin presenti negli ETF. Quelli per esempio gli AUM stanno aumentando, questo è l'ha, diciamo, espresso già in Bitcoin e c'è comunque un influsso abbastanza consistente di Bitcoin costante a livello giornaliero che va a finire negli ETF. Allora, a questo punto, se c'è questo influsso, perché io ho un dato fortemente crescente anche negli ultimi tempi di questo inflow exchange? Dovrebbe essere il contrario teoricamente. In realtà qualcosa, insomma, ha smosso la mia curiosità e ho detto ma è possibile che si stiano verificando degli inflow sugli exchange e degli crypto, soprattutto Bitcoin, che poi però vengono comprate e utilizzate in OTC e quindi date agli ETF per i loro accumuli. e quindi a questo punto sono andato a vedere quelli che erano gli outflow medi relativamente a questo mercato e in teoria anche gli outflow medi sono tendenzialmente rialzisti. si vede di più con una media perché se noi andiamo a infilare in pratica una media a sette periodi, ecco, vediamo, dovrebbe essere più evidente, esatto. si vede un po' meglio come il trend anche degli outflow, seppur non forte come quello degli inflow, tendenzialmente è rialzista, quindi abbiamo sia gli inflow rialzisti, che però questi sono più forti, se infatti andiamo, per esempio, a strutturare, a verificarlo con una media, si vede, diciamo, in maniera un po' più evidente. Quindi a questo punto abbiamo da una parte degli inflow, quindi delle crypto che arrivano negli exchange, ma anche degli outflow che comunque stanno salendo in trend anche con la, in pratica, la questione degli ETF. E quindi da una parte entrano e arrivano, dall'altra vengono prelevati e probabilmente assegnati agli ETF in questi ultimi periodi o comunque finiscono da qualche parte. In sostanza, un atteggiamento del genere è vero, indica un po' una lente di ingrandimento davanti a questa situazione perché c'è da mettere una lente di ingrandimento, assolutamente, però indica anche che probabilmente c'è una specie di partita di giro, cioè in pratica noi assistiamo all'ingresso di bitcoin che vengono poi rispostati da altre parti e stiamo assistendo a questo travaso, in pratica, da una parte e dall'altra. Quindi alcuni dicono sono i retail che stanno mettendo i loro bitcoin per essere venduti. Allora potrebbe essere anche questo, ma retail così tanti, secondo me, per flussi di questo tipo non ce ne sono. Ecco, dal mio punto di vista la vedo un po' difficile. Però sostanzialmente vi faccio vedere anche quelli che sono i net flow totali a distanza di un anno. Eccoli qui. E volevo farveli vedere, ecco, qui è la solita linea, ma se adesso vi faccio vedere per esempio la media a 14, la media a 7 e la media a 30 giorni, è sostanzialmente stabile o tendenzialmente ribassista. Questi sono i net flow perché significa che sono in pratica la differenza tra gli inflow di crypto e gli outflow di crypto. In pratica questo grafico mi conferma quello che stiamo dicendo, cioè questi inflow sono inseriti per essere spostati da qualche altra parte. In pratica dovrebbero essere essenzialmente quelli che vengono messi dalle balene, grandi investitori, qualche retail sicuramente, che poi vengono assegnati in pratica dati agli ETF o comunque a chi li vuole comprare. Quindi in sostanza ci indica una cosa. Mani forti che stanno comprando questo mercato. La logica dovrebbe essere questa. Allora qui siamo più nell'interpretazione, come vi dicevo prima, meno nel dato. Il dato l'abbiamo visto prima, però l'interpretazione dovrebbe essere questa. Guardate anche per esempio dal gennaio, dal 28 di gennaio, come i net flow sono andati a scendere in maniera palese e inversamente proporzionale al rialzo di bitcoin. Tra le altre cose, in questo periodo abbiamo la questione degli ETF e gli ETF sono stati approvati, vi faccio vedere giusto il giorno, e sono stati utilizzati, diciamo, la transazione qui. Quindi qui c'è stato l'influsso dei primi bitcoin, l'ultima zampata rialzista, dopodiché gli ETF che hanno iniziato a comprare ed è sceso il net flow anche sugli exchange, a parte che loro comprano anche OTC, però in linea di massima ci dice una cosa molto semplice questo discorso qui. È probabile che ci sia un accumulo e che si deve, anche questo dato, deve riandarsi a modificare. In pratica ci vuole un inflow importante di bitcoin adesso all'interno degli exchange, anche per colmare questo divario e fin tanto che non avviene, avviene una specie di mini shock che è interessante, cioè fa proprio schizzare le stelle. Perché? Perché il flusso di domanda non si plaga e questo perché ci sono gli ETF. Ovviamente se non ci fossero gli ETF il prezzo oscillerebbe, potrebbe andare su e giù, però in linea di massima il flusso di domanda sarebbe stabile, quindi anche un inflow negativo, un net flow negativo, in questo caso ribassista, non sarebbe un grande danno e non influerebbe moltissimo sul prezzo. In questo caso lo fa perché c'è una domanda costante che arriva proprio dagli ETF. Per concludere questo discorso poi c'è da andare a vedere anche un'altra cosa, i depositi delle transazioni, depositi delle transazioni che sono ribassisti, ragazzi, e sono ribassisti anche nella media. Questo cosa indica? Ve lo faccio vedere di nuovo qua, il numero totale dei depositi verso gli exchange. Quindi alti valori indicano la possibilità di off-selling in spot exchange, ma se vengono inseriti depositi come stablecoin, eccetera, questo volrebbe dire buying pressure. Quindi in sostanza la questione legata a questo dato è anche significativa dell'atteggiamento dei retail. Vi faccio vedere anche infatti quello che è la descrizione proprio che trovate sempre su CryptoQuant di come andare ad analizzare questo tipo di dato è decreasing trend, è quello che noi stiamo vivendo in questo caso. Guardatelo in maniera palese e scritto qui. Molte meno persone stanno partecipando al flow degli exchange e indica una diminuzione dell'interesse nelle attività degli exchange, nel trading e una possibile riduzione ovviamente di volatilità. Questa non c'entra in questo caso, ma questo sì, perché abbiamo una diminuzione di interesse, ma da parte di chi? Da parte dei retail, ragazzi. Quindi in pratica questi due dati confermano in maniera chiara che da una parte questa pressure di domanda nei confronti di Bitcoin è completamente dipendente dagli istituzionali e che i retail non ci sono ancora. Tant'è vero che il trend è ancora in fase decrescente di quelli che sono i depositi. E ovviamente quando ci saranno gli eventuali retail allora potremmo in caso assistere magari a una fase di bull. Vi faccio vedere dagli ultimi dati disponibili. Per esempio quando eravamo nel 2021 come salivano i depositi e qui erano diciamo sostanzialmente anche i retail e come si sono andati a collegare al pricing. Quindi disinteresse dei retail e acquisti metti in atto da parte degli istituzionali, ragazzi. Allora questi sono i due grafici che confermano quello che sta succedendo in questo momento. C'è un po' di interpretazione soggettiva. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Ma secondo me è interessantissimo andare a scoprire queste cose. ogni tanto riprendere e rianalizzare l'analisi on-chain che sebbene interpretata ma è molto difficile dà sempre una grande, grandissima informazione. Bene, per oggi è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Con un po' di voce, ragazzi. Ah, tra le altre cose vi lascio anche in descrizione un link su un'analisi proprio di CryptoQuant che mi ha fatto accendere la lampadina su questo tipo di ragionamento. È un'analisi un po' più spicciola, diciamo, del mio video. È un po' più, diciamo, superficiale. Però se volete andare a darci un'occhiata, ovviamente in inglese ve la lascio in descrizione. Ciao, ragazzi.